Ok, per cui è facilissimo nell'uso, bisogna soltanto fare azione, non devi mettere auricolari, non devi rubare tempo, non devi scendere montagne né salire ruscelli, non devi vedere luci o asteroidi, niente di niente di niente. Infatti l'ipnosi di CS vera e professionale è unica al mondo perché è anche, si può utilizzare per chi non vuole il tuo aiuto, quante persone stanno davanti alla tv, a letto e non vogliono essere aiutati, quanti, 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 né online né offline, non vogliono aiuto per vari motivi inconsci, perché vogliono morire, perché sono depressi, perché vogliono fare un dispetto inconscio, non con la ragione alla mamma o al papà o al proprio caro, perché sono negativi, bla 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 bla. C'è tante cose in questo universo inconscio o subconscio, chiamalo come vuoi. Per cui il metodo di CS serve anche per chi non vuole il tuo aiuto, nell'aiuto di qualche guru là fuori, neanche online, oppure non può avere l'aiuto. Mi riferisco a tanti vecchetti allettati o persone giovani e anziani allettati nel letto e che non possono essere aiutati. Anche mio padre era così, era una larva, nel letto da un anno e mezzo quasi due, con piaghi di decupito in tutto il corpo, colpito da un ictus fulminante per la metà del corpo fulminata e la medicina tradizionale aveva soltanto il liquido anticoagulante, anticoagulante che non risolve il problema, soltanto elimina un possibile rischio di ricadute o di peggioramenti. E con l'ipnosi di CS vera e professionale scrivendo un'email in tutto il mondo, all'epoca ero un professionista, neanche un professionista, un autodidatta sull'ipnosi perché conoscevo tante tecniche, avevo letto più di 2000 libri, ipnotizzavo sulla spiaggia 10-20 persone alla volta, nelle mie attività nel mondo, ovunque trovassi una persona e chiedevo il permesso che posso ipnotizzarti, naturalmente rispondevano di sì moltissimi e iniziavo l'ipnosi. Avevo risolto casi incredibili da autodidatta, insonnia, depressione, panico, ansia, dolori cronici, all'osso sacro, ai denti, ma mai casi del genere come ictus, epilessia, paralisi. Infatti provai a ipnotizzare mio padre nel 2008 non riuscendoci, ebbe un po' di paura pure all'epoca, da sbarbatello in materia di ictus, ma dopo quando ho visto la dottoressa Rina Brunini su Skype in 30 minuti di rerocco allo schioccare delle alzate e cammina lì. Ho detto a dove sono stato fino ad oggi. E lì ho iniziato il mio percorso, ho studiato, ho preso il master in ipnosi vera e professionale a Los Angeles Beverly Hills con la dottoressa Rina Brunini e il professor dottore Michelangelo Garai. Ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo online, ma anche offline, perché ero, sono e sarò come santo maso se non tocco, se non vedo, non credo e ricordati, anche se tu sei scettico. Mio padre era scettico, eppure aveva funzionato, ha funzionato lo spesso, per cui lo scetticismo nel metodo DCS non è importante. Perché non è importante? Perché non richiede la tua volontà. Ok? Devi soltanto rispettare la letterissima, non la lettera, l'istruzione, la prova di un nonno, di un pigro, di un idiota. Poi è logico che, pur essendo istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, dipende da caso a caso. Significa che tu devi poi regolare tutti i parametri, il volume, le parole, l'ambiente. Non è che io sto qui con te a regolare tutto ciò che devi regolare, ma non è difficile. Anche un bambino di 5 anni riuscirebbe a farlo. È logico che devi testare, testare, testare e ottenere il topo, l'equilibrio, quello che vuoi fare per te o il tuo caro. Però fidati che nel 99,9% periodico funziona, funziona. E tra un po' usciranno anche altre video testimonianze di gente nel mondo che ha utilizzato il metodo DCS vero e professionale. A parte tutte le video testimonianze che sono già uscite e anche che trovi sul sito dell'associazione Iprnolegi Associati, dove servirà anche a te capire tanta gente cosa ha provato, cosa prova e cosa fa tutto il giorno per ottenere soluzioni che altrimenti non avrebbe ottenuto. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni. Viste il sito internet www.IprnolegiAssociati.com. Viste la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottore Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. Scrivimi, 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 chiedimi cosa vuoi approfondire, i tuoi dubbi, le tue perplessità, ciò che non ti è chiaro. A prescindere dal sottoscritto, io ti darò dei consigli e poi vai all'associazione Iprnolegi Associati per scaricarti audio di CSMP3 molto potenti e naturali senza nessun effetto collaterale, per te il tuo caro se lo vuoi. Oppure puoi andare anche presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale in Francia, Germania, Spagna, Italia, Stati Uniti, Canada, Giappone, dovunque tu sia, non è importante. E poi seguimi anche sugli altri social Instagram e Twitter benessere ipnosi soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino. E ricordati, ciò che faccio è per darti l'input, l'ispirazione per te e la tua famiglia a prescindere da me perché io non vendo nulla, ok? Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima, ciao!